Ragusa, neve sul capoluogo questa mattina e per le prossime ore la protezione civile ha lenciato l'allerta meteo. Modica si spaccia per assistente sociale del comune di Modica entra in casa, falpeggia l'anziano e gli ruba i soldi, arrestata. Vittoria, ore di terrore per due fratelli che all'interno della propria abitazione sono stati legati e picchiati da tre malviventi. 14 febbraio, auguri a Kishiyama tra regali e cene romantiche e cochiere il santo protettore degli innamorati. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News, apertura del nostro TG dedicata alla situazione meteo che è imperversa nel capoluogo ibleo. Dopo la nevicata che questa mattina ha ricoperto le strade e i tetti delle case, si è alzato il livello di guardia per quanto riguarda possibili precipitazioni nevose previste per domani mattina, ma sentiamo il servizio. Allerta meteo per la città di Ragusa. Questa mattina la città si è svegliata imbiancata dalla neve creando disagi per gli automobilisti e per chi doveva recarsi al lavoro, ma regalando uno spettacolo davvero magico. E in queste ore permane l'allerta meteo. Confermate infatti le previsioni meteo che davano per oggi e domani le giornate più a rischio neve per le zone a bassa quota della Sicilia. A seguito delle condizioni meteorologiche della nottata, la protezione civile del comune di Ragusa sta facendo il punto della situazione sulle attività da attuare per ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Oggi si sono svolte due riunioni presso il comune, una in mattinata ed un'altra nel pomeriggio. Il rischio in particolare riguarda la formazione di ghiaccio nelle ore notturne. A questo proposito, la Centrale Operativa Comunale della Protezione Civile, sta operando per il monitoraggio costante della situazione e rimarrà attiva H24. Già allertati i mezzi spargisale che già da questa notte sono stati all'opera nelle strade di accesso agli ospedali in alcuni punti della città, come in via Fiera Mosca, negli svincoli dell'SP 514, per Manina di Ragusa e Santa Croce Camerina e in altre vie. Possibile anche la chiusura degli edifici scolastici e la chiusura al transito veicolare, per la presenza di ghiaccio, di cavalcaferrovia, di via Epicarmo e di contrada selvaggio, così come è accaduto già questa notte. Insomma, la situazione è costantemente monitorata ed in continua evoluzione. E chissà se domani la città di Ragusa si sveglierà ancora sotto la neve. Nella riunione che si è svolta oggi pomeriggio con inizio alle ore 18 si è concordato di non procedere all'adozione di nuove misure sulla non necessaria ordinanza di chiusura delle scuole per domani, che era stata in un primo momento prospettata. Passiamo adesso alla cronaca e ci occupiamo dell'arresto di una modicana accusata di furto. La donna che si spacciava per assistente sociale del comune avrebbe storto la somma di circa 300 euro ad un anziano della città, distratto dalle sue particolari attenzioni. Ma sentiamo i particolari della vicenda in questo servizio. Eseguita ieri pomeriggio dal personale del commissariato di polizia di Modica, l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Runza a Gina, una modicana classe 1978 residente a Rosolini. La donna è accusata di furto in abitazione aggravato e continuato perché nel settembre 2011 si sarebbe impossessata della somma complessiva di 280 euro, sottraendola ad un pensionato vedovo di Modica. La Runza in particolare, dopo essersi qualificata falsamente quale assistente sociale del comune di Modica inviata dal proprio ufficio per accudire il soggetto bisognoso, è riuscita ad entrare in casa della vittima in più circostanze. Questo è il semplice ma efficace stratagemma usato. Per distrarre l'uomo è iniziato ad accarezzarlo nelle parti intime lasciandosi a sua volta palpeggiare. In quei momenti la donna è riuscita a rubare il denaro che il pensionato aveva l'abitudine di custodire nel taschino della camicia. Si tratta di somme cospicue per le finanze dell'uomo che vive da solo in aperta campagna della sola modestissima pensione sociale. Le indagini svolte dal personale delle volanti e della sezione di polizia giudiziaria dell'ufficio di Modica hanno permesso di accertare le responsabilità della donna che comunque in passato aveva adottato una simile tattica ai danni di anziani di diversi comuni del comprensorio ragusano. La donna si trova adesso presso l'abitazione dei genitori a Rosolini con l'obbligo di non comunicare con persone diverse da quelle che con lei coabitano e di non allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. E ancora cronaca, aggressione a danno di due fratelli a Vittore che sono stati sorpresi nel sonno da tre malviventi all'interno della propria abitazione. Tanta paura questa notte a Vittore per due fratelli vittoriesi che sono rimasti per alcune ore in varia di tre malviventi che dopo aver fatto irruzione nella loro abitazione li hanno imbavagliati, legati e picchiati selvaggiamente. I malviventi sono entrati intorno alle 4 e mezza nella casa dove i due fratelli dormivano in via 4 Aprile angolo via Gaeta e hanno rovistato nell'appartamento cercando forse gioielli o comunque oggetti di valore. Non trovando niente hanno portato via un televisore ed una carta di credito e sono fuggiti via. Quando i due malcapitati sono riusciti a slegarsi hanno dato l'allarme ed è intervenuta la polizia. I due fratelli sono stati così condotti in ospedale e sottoposti alle cure del caso. Hanno riportato numerose chimosi sul volto e la frattura del setto nasale. Sull'episodio come detto indaga la polizia. E sempre a Vittoria la polizia ha tratto in arresto un giovane di 20 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Arrestato per spaccio di droga, gli agenti del commissaretto di Vittoria hanno tratto in arresto Carmelo Simon Capitina Vittoriese di 20 anni. Gli agenti erano rimasti insospettiti dall'atteggiamento del giovane che insieme ad una ragazza si trova all'interno di un'autovettura parcheggiata, tra l'altro in modo da ostacolare la normale circolazione dei veicoli. Sottoposto a controllo entrambi sono risultati avere precedenti relative agli stupefacenti e nel corso della perquisizione è stato rinvenuto nelle tasche del ventenne un piccolo involucro contenente un grammo di sostanza stupefacente e nelle portafogli tre banconote da 50 euro. Inoltre nel cofano posteriore è stata rinvenuta una mazza da baseball. Date tali prime risultanze, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del ragazzo dove, ben gelati, sono stati rinvenuti un'ulteriore dose di stupefacente e due bilancini di precisione, sostanza utilizzabile per il taglio e un contenitore con decine e decine di semi di marijuana. Per tali motivi Capetine è stato tratto in arresto, misura convalidata dal GIP presso il Tribunale di Ragusa, che lo ha rimesso in libertà onerandolo dell'obbligo di firma presso il commissoriato e disponente rinvio del processo al 21 febbraio, in attesa degli esiti delle analisi sulla sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina. Inoltre sono state denunciate tre persone, due per violazioni di norme relative ai diritti contro la famiglia e uno per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Continuiamo ancora con la cronaca. Da Cate due braccianti agricoli rumeni sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato di energie elettriche. Il servizio. Arrestati dai carabinieri di Cate due romeni, l'accusa per loro è di furto aggravato di energia elettrica. I due, un 52enne e un 56enne, entrambi domiciliati ad Cate in contrada fossati, sono entrati abusivamente in un caseggiato della contrada in cui risiedono e attraverso un contatore dismesso dall'Enel si sono allasciati alla rete elettrica del lente utilizzando un cavo elettrico di circa 102 metri. I tecnici intervenuti sul posto hanno quantificato il furto in 500 kilowatt di energia elettrica e i due romeni avevano allestito all'interno del casale di proprietà di una signora catese un vero e proprio appartamento con ogni comfort. I militari dell'arma hanno infatti rinvenuto due televisori, un videoregistratore, carica batterie per cellulari, una stufa elettrica e nel soffitto una luce. Gli apparecchi erano legati fra loro da una serie di cavi volanti che una volta fuori dall'abitazione erano stati interrati sino ad arrivare al palo Enel posto in un terreno limitrofo a circa 100 metri di distanza dal casolare dove andavano a confluire all'interno di un contatore della società elettrica. I due romeni entrambi finora incensurati sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. Oltre ad essere accusati di furto aggravato i due sono stati denunciati per il reato di danneggiamento e di invasione di edifici. A Modica la Procura della Repubblica ha chiesto una proroga per le indagini dell'operazione denominata agenzia matrimoniale che ha coinvolto 25 persone indagate per matrimoni combinati tra italiani e magrebini per permettere di rinnovare e di ottenere il permesso di soggiorno. Ma sentiamo il servizio. La Procura della Repubblica di Modica ha richiesto una proroga per le indagini che riguardano l'operazione agenzia matrimoniale condotta dai carabinieri della compagnia di Modica fino allo scorso mese di dicembre. Da quanto emerso dalle indagini ci sarebbe un numero consistente di matrimoni combinati tra cittadini italiani e magrebini residenti in Italia. Secondo l'accusa ci sarebbe una organizzazione gestita da cittadini magrebini da tempo residenti in Italia operante a Modica nel circondario che si occupava di trovare un italiano nella maggior parte dei casi in stato di indigenza per donne magrebine scadenza di permesso di soggiorno per farle convolare a nozze con l'obiettivo di far ottenere il rinnovo automatico del permesso di soggiorno. Nell'indagine sono coinvolte 25 persone indagate a vario titolo e per favoreggiamento illegale dell'immigrazione clandestina e falsità ideologica. Per 5 di loro c'era stata la richiesta di custodia cautelare in carcere che fu rigettata dal giudice per le indagini preliminari protempore patricio di Marco. La richiesta di proroga è stata presentata adesso al GIP Sandra Levanti. Torniamo ad occuparci del mercato ortofutticolo di Vittoria. Ieri pomeriggio infatti sono arrivati i provvedimenti da parte della procura della Repubblica di Ragusa che ha dissequestrato 6 box sui 15 che erano stati sequestrati. Vediamo. Sono stati dissequestrati 6 box del mercato ortofutticolo di Vittoria ai quali erano stati apposti i sigilli dopo il blitz della Guardia di Finanza di venerdì scorso. Ieri pomeriggio è arrivato il provvedimento emesso dalla procura di Ragusa che ha accolto le istanze presentate dai legali dei titolari delle strutture. Molti tra i titolari dei box hanno presentato ricorso sostenendo che non sussistevano gli estremi per il sequestro che di fatto ha bloccato l'attività di vendita. Ma intanto le indagini da parte delle Fiamme Gialle proseguono. Venerdì mattina, lo ricordiamo, i militari guidati dal comandante provinciale del colonnello Francesco Fallica sono arrivati al mercato di Vittoria alle 5 e mezza del mattino ed hanno notificato l'istanza di sequestro a 15 concessionari dei box. Tra le ipotesi di reato spicca quella di abuso d'ufficio e fa riferimento alla volturazione dei box che, sulla base delle indagini della Guardia di Finanza, non sarebbe avvenuta in maniera corretta sulla base di quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale. E subito dopo la pausa torneremo ad occuparci di autoambiente Ragusa. A dopo.